Un milione di vendite in sole 24 ore. Si tratta della PlayStation 4 della Sony che è stata lanciata ufficialmente negli Stati Uniti e in Canada venerdì 15 novembre. Le attese che ruotavano attorno al lancio della nuova versione della popolare console del gruppo nipponico erano molto alte e i numeri record del lancio lo hanno confermato. La nuova console, in vendita a 399 dollari, un prezzo decisamente inferiore al modello che l'ha preceduta, è stata progettata per essere il più possibile social. Il tutto grazie a un'accessibilità immediata alla rete che permette agli utenti di comunicare con gli altri giocatori. La PlayStation 4 verrà lanciata il 29 novembre in Europa e in America Latina. Una sfida a colpi di nuove uscite che promette di infiammarsi con l'arrivo questa settimana della Xbox One targata Microsoft. La PlayStation 4 verrà lanciata il 29 novembre in Europa e in America Latina.